Cari telespettatori, eccoci come promesso nell'ultima parte della nostra trasmissione a fare il consueto approfondimento di economia di finanza con Stefano Zaro, naturalmente il nostro esperto, ben ritornato qui con noi. E allora andiamo un po' sul punto e direi che visto che ormai c'è l'apertura dell'anno possiamo prendere in mano il 2018, accartocciarlo ben bene, però prima di gettarlo, fare delle considerazioni, delle valutazioni. Che anno è stato? Voi che avete un po' l'occhio sia sui livelli di sistemi di macroeconomia, economia diretta, ma anche finanziari in generale, come si può definire? Per il risparmiatore è stato un anno negativo, qualsiasi posto in cui tu abbia messo dei soldi ti ha generato delle perdite, raramente succede questo, ma da un po' di anni i mercati finanziari vanno tutti nella stessa direzione. In più si è aggiunto il mercato immobiliare che comunque non ha significativamente di crescita, né per ciò che riguarda l'oro, le materie e i metalli preziosi, questi comunque non hanno dato quella diversificazione in termini di valore aggiunto che di solito esprimono. Quindi è normale che un risparmiatore tira una riga e guarda gli investimenti fatti, non debba sorridere, non debba arrabbiarsi con il proprio consulente finanziario. Ma se non gli sono, diciamo succede che, diciamo è un anno che può darci delle garanzie sul fatto che il 2019 sicuramente sarà un anno migliore. Ah, meno male. Su questo si sentono un po' tutti, ma è un anno che non ha risolto i nodi, si è chiuso male, si è chiuso in un crescente di negatività, soprattutto novembre-dicembre, perché i nodi sul tappeto, i tre nodi importanti sul tappeto non si sono del tutto, non si sono sciolti. Quali sono i tre nodi che c'erano sul tappeto? Il tappeto sono Brexit dura o no, quindi dobbiamo ancora capire in che modo l'Inghilterra, perché l'Inghilterra è importante per l'Unione Europea. No, no, ma dopo lo analizziamo, Brexit è una cosa. Poi l'accordo commerciale, Cina, Stati Uniti. E quindi quello, ok. E poi le vicende italiche, che comunque sono vicende... Quelle della legge di stabilità. La legge di stabilità, la legge di bilancio, il bacio di ferro con l'Unione Europea, che si è trascinato fino a fine anno. Allora, l'Europa, dopo le elezioni, vediamo adesso. Analizziamole prima. Brexit, che tiene in sospeso tuttora, perché questo sarà anche il prossimo anno la grande incognita. Quando sui mercati finanziari arrivano notizie di segno di ammettamento opposto, crisi politica in Gran Bretagna, dimissioni della MEI, nuovo governo, possibile retromarcia della Gran Bretagna rispetto alla Brexit, nessun accordo, cioè nel momento in cui un paese non irrilevante, come la Gran Bretagna, non riesce, tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, non si riescono a dipanare questi nodi. Ovviamente i mercati finanziari, che sono abituati, diciamo, ci hanno abituato a prevedere il peggio, per sperare del meglio, per non sapere in agire di scrivere, vendono sui mercati finanziari. Perfetto. Vendita adesso sui mercati finanziari, questo vediamo cosa può provocare. Però, dicono, siccome tanto Londra quanto Bruxelles non vogliono arrivare a un divorzio in dolore, vorrebbero trovare un accordo. Secondo lei, ci sono le prospettive per un accordo, effettivamente, oppure si arriverà a una rottura, perché ormai siamo alla scadenza degli accordi di trattativa, e quindi ci saranno delle conseguenze gravissime, tanto per l'Inter quanto per l'Europa. Come la vede? Il mercato spera in un accordo ragionevole. Ragionevole vuol dire che mantenga la libertà commerciale e mantenga integri quello che è l'identificazione di Londra come capitale finanziario d'Europa. Quindi non vengono toccati certi ambiti di interscambio finanziario e commerciale. Quindi vengono mantenute la libera circolazione all'interno dell'UE, cioè sostanzialmente ci sia una sorta di Brexit morbida. Una Brexit dura non è prevedibile nei suoi sviluppi, non è prevedibile, che potrebbe dare la stura a, ricordiamoci che il 2019 è un anno di appuntamenti elettorali in Europa, potrebbe dare la stura ai rigidimenti, a rafforzarsi di certe spinte anti-Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è un panorama di 500 milioni di persone, che fa 21 mila miliardi di PIL, cioè è il secondo mercato al mondo per importanza. Quindi quando parliamo di un'Unione Europea parliamo di qualcosa che può, nel caso in cui il progetto implodesse, avrebbe delle repercussioni gravissime per tutti quanti. Non c'è un mercato a riparo da... Il mercato finanziario è un mercato che vive bene in un abitato di libero scambio. Ecco perché l'altro punto, l'altro catalizzatore per la crisi di crisi, che è la guerra commerciale tra Stati Uniti e America, deve anche questo risolversi, quantomeno gli esperti si possono risolvere comunque nel primo trimestre, e confidano a tutti una soluzione positiva. Qualora non si arrivassero a queste conclusioni, a questi aspetti di accordo, che secondo lei non sono inevitabili, insomma... Ma insomma, dopo nove anni di crisi dagli Stati Uniti, se non c'è accordo commerciale, andrà in recessione. E per gli Stati Uniti adesso non c'è neanche l'approvazione della legge di bilancio. Non c'è questo braccio di ferro, ma questo è un braccio di ferro strettamente politico. È politico, quindi... Però sta penalizzando. Certo, avrà dei riflessi anche immediati sul rating del debito stesso degli Stati Uniti. Però è tanto vero che la cosa a cui tutti stanno guardando è in che misura ci sarà un'intesa, un nuovo patto commerciale tra le due principali economie del pianeta, che sono gli Stati Uniti da una parte, la Cina dall'altra. Per la Cina adesso è un mercato più debole. Diciamo che sono come fossero due pugili più o meno della stessa categoria, dello stesso peso. Da una parte c'è un'economia che cresce al 6-6,5, che ha bisogno di continuare ad avere un'economia in crescita, che ha già cambiato pelle. Quello che ha fatto la Cina negli ultimi sei mesi, in termini di introduzione delle... Tutto ciò che riguarda i cambiamenti della Cina sono da vedere non con i ritmi dei tempi europei o americani perfino, ma è tutto molto più accelerato. In sei mesi la Cina ha fatto, per ciò che riguarda le energie rinnovabili, quanto l'Europa ha fatto in qualche anno. La Cina ha bisogno di continuare a crescere anche per ragioni di stabilità interna, di condivisione del benessere a livello della sua popolazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno di crescere, di prolungare questo straordinariamente lungo periodo di crescita, perché Trump non vuole arrivare all'appuntamento elettorale 2020 in recessione. Quindi ha bisogno che venga spostata in là la data di questo rallentamento. Oltretutto l'accordo commerciale consentirebbe agli Stati Uniti di avere un rallentamento dopo nove anni di crescita più morbido. Gli utili americani l'anno scorso 2018 sono stati superiori al 20%, non si era mai verificato. Quindi sono andati bene? Sono andati molto bene. È ovvio che gli analisti non si ha spostato... La borsa quando comincia a calare? Quando gli analisti credono che non ci siano più margini per poter migliorare ancora gli utili dati societari. Quindi quando tu pensi di arrivare in cima, se anche dall'altra parte c'è discesa. E quindi ecco che il suo mercato si vende. Gli effetti della riforma fiscale americana sono già inglobati negli attuali prezzi. Quello che si tratta di vedere è se questo accordo commerciale può dare qualche anno di crescita ulteriore. Un incubo... A parte degli Stati Uniti, che quindi comunque non va così male, dai si può dire. Sono mani dati così bene. Esatto. L'Europa invece sembra vivere un incubo. Ma le quotazioni... Beh, all'erà dei mercati finanziari che in Europa sono stati... La borsa tedesca l'anno scorso, il 2018, ha chiuso con un meno 18. La borsa italiana un meno 16. Sono state le peggiori borse del vecchio continente. Perché questo? Ma un po' perché da una parte ci sono discorsi molto complessi e molto lunghi, ma proprio facendo un'estrema sintesi, il modello, c'è un modello di crescita che per quanto riguarda la Germania, è un modello molto radicato nell'industria tradizionale. Per quanto riguarda l'Italia, il mercato nostro è un mercato molto connotato su banchi e assicurazioni, quindi un mercato molto legato alla finanza. Ecco che i tassi bassi che ci sono stati ormai, che ci sono ormai da quattro anni, continuano ad essere bassi nel momento in cui gli ultimi dati sulla produzione industriale sono negativi o peggiori rispetto ai precedenti. Non si vede come la BCE possa alzare i tassi con uno scenario di rallentamento economico in Europa. Perfetto. I tassi bassi vuol dire che banca ancora in sofferenza, assicurazione ancora in sofferenza. Esatto, perfetto. Banca in sofferenza, arriviamo all'Italia. Qual è la situazione? Il sistema della credito è un sistema che almeno da due o tre anni sta ridisegnando se stesso. Si è sempre detto che il vecchio modello del far banca non esiste più. La banca deve concentrarsi su consulenza, sulla consulenza all'impresa, sull'accompagnare l'impresa a quotarsi, a essere un partner produttivo, non solo un venditore di denaro. Cambiare pelle non è semplice nel momento in cui tu devi anche fare una robusta cura dimagrante. Quindi le banche dovranno ridursi negli organici, lo stanno già facendo, quindi ridurre il personale, chiudere i filiali. Nello stesso tempo devi proporre ai tuoi clienti privati, aziende, famiglie, un modello di servizio completamente diverso da prima. Una cosa è dirlo, l'altra cosa è farlo. Chi arriva prima a dare un servizio percepito come diverso e migliore, l'importante è che tu negli organigrammi o quando fai le riunioni aziendali, tu dica che dobbiamo fare o dobbiamo proporre. L'importante è che poi la clientela lo percepisca effettivamente come diverso e gli sia di utilità. Ma che cosa bisognerebbe inventare? Ma niente che non sia già stato inventato, noi basta che ci guardiamo un po' in giro, insomma. Le banche devono fare altre cose, è percepibile anche la diversità nei layout, cioè le banche sono arredate, cominciano ad arredarsi in maniera diversa, essere posti più ospitali, ci sono anche dei piccoli angoli per la lettura, per la sosta, cose che non sono più i vecchi uffici in cui devi metterti in coda e attendere che il cassiere, che sia arrivato il tuo turno, insomma. E le banche cercano di cambiare. Non basta questo, le banche devono avere un sincero interesse per i loro clienti, quindi occuparsi delle aziende non soltanto quando sconfinano dei conti correnti, ma dare delle funzioni, di essere coadiuvanti e propositive per le piccole imprese, cioè aiutare i clienti nel districarsi, non soltanto per ciò che riguarda gli investimenti, che è già un mondo complesso, quindi aiutare i clienti a fare delle scelte che siano diverse, discontinue rispetto al passato. Questo ci obbliga, siamo obbligati a farlo perché siamo passati da un periodo di alti rendimenti con basso rischio a una realtà in cui abbiamo bassi rendimenti con alto rischio. Quindi oggi il cliente... Siamo in una situazione ideale per fare qualcosa di nuovo, ma per fare qualcosa di nuovo bisogna che il cliente condivida il fatto che bisogna rompere con le abitudini del passato. Cambiare abitudine non è facile, non è facile per chi ci lavora, ma anche per i clienti, che devono continuare a vedere le cose con delle lenti diverse, assolutamente diverse. Però comunque la situazione anche di altre grosse realtà bancarie ha destabilizzato un po' il sistema e anche la credibilità della banca stessa. Adesso vediamo il discorso di un'altra banca che nell'occhio del ciclone non si sono ancora risolti, esatto, carigeno, non si sono risolti quelli precedenti. C'è tante cose, quantomeno il fatto di fare chiarezza, mettere ordine, non c'è una regia che aiuti a dare una lettura univoca delle cose. Abbiamo e sappiamo e ci facciamo un'idea di quello che leggiamo sui giornali. Ovvio che possiamo delegare la stampa a dare delle informazioni oggettive. La stampa pone le notizie in modo tale che tu voglia, sia incuriosito, quindi ti colpisce soprattutto sulle negatività. Parliamo di un settore che ha più di 100.000 addetti, che sta cambiando pelle in maniera veloce, parlo del credito, in maniera veloce e lo fa, tra virgolette, all'interno di un sistema peso in grossa crisi. Come fa una banca a avere delle aspettative di crescita degli utili quando il ciclo economico è perennemente asfittico? Noi cresciamo, se va bene, di un 1% in questo sistema, in questo abito di tassi a zero, chiediamo alla banca di ricavare gli utili come lo faceva prima, nella forbice dei tassi. È impossibile. È impossibile farlo. Quindi deve cambiare anche i formati. Per stare in piedi la banca cosa deve fare? Redurre i costi, lo fa riducendo i dipendenti, guidando le filiali, ottimizzando l'operatività, cercando di far pulizia nei bilanci delle sofferenze, quindi cercando anche di avere tra sé buoni clienti e nel contempo dare un servizio percepito di buon livello in modo da portare via i clienti e altri concorrenti. Siamo in chiusura. Scenario che si prospetta, cosa possiamo dire? È uno scenario che ha delle ombre, ma anche molte luci. C'è un mondo nuovo legato alla rivoluzione digitale che cambierà le nostre vite, ma le cambierà in maniera permanente e in maniera importante. Ha una velocità a cui non siamo abituati. Quindi il fatto che gli economisti parlano di una crescita a bassa inflazione ci fa capire che impatto abbiano nuove tecnologie nella produzione e nei nostri consumi. Quindi è un mondo che cambia a questa velocità, apre delle opportunità e ha delle profonde incognite. Tutto il vecchio o riesce a rinnovarsi, a riposizionarsi, a ricollocarsi o è superato. Un modello produttivo che farà fatica a rimanere in piedi. Siccome abbiamo la produttività industriale con un calo, un segno negativo, c'è pericolo o recessione? Beh, è un pericolo... Diciamo che noi siamo anche abbastanza forti. Il nostro paese ha sempre trovato slancio nei periodi di crisi, sfruttando le eccellenze. Le eccellenze che sono la qualità dei nostri manufatti. Questo può darci, nel momento in cui riusciamo a compenetrare questo nuovo modello, può darci delle opportunità. Quello che sappiamo fare noi non lo sanno fare gli altri. E la velocità delle nuove tecnologie può metterci nelle condizioni di acquisire dei vantaggi della vinta dei nostri merci. Evitare quindi la recessione. Ed evitare la recessione. Ma dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che questo revitare o cogliere la recessione non è un problema italiano, è un problema europeo. Noi siamo un grosso mercato, forse il più grosso mercato al mondo, 500.000 persone, ma nei problemi importanti facciamo fatica a ragionare all'unisono. Certo. Quindi attenzione grande a questo punto. Come si evolveranno le piccole cose. Anche soprattutto per le piccole cose. Allora, appuntamento a presto, perché vediamo un attrego di una settimana, così poi ci rivedremo tra 15 giorni per altri aggiornamenti. Io ringrazio Stefano Zara che è stato qui con noi, ringrazio voi di averci seguito e noi naturalmente ci vediamo invece prestissimo domani.